Sono molto contenta di poter lavorare per il mio paese, è stato sempre un mio grande desiderio lavorare collaborando un po' con tutte le forze politiche, forse per questo sono stata scelta perché sono una moderata, posso effettivamente rappresentare un po' tutti nel bene del paese perché l'unico interesse è quello di fornire ai cittadini i servizi, i cittadini si sono espressi come ho già detto precedentemente, si sono espressi con l'equilibrio perché vogliono pace e serenità e vogliono servizi, in questo senso dobbiamo lavorare, tutto il Consiglio lavorerà in questo senso Lo spirito è uno spirito di squadra dove possiamo lavorare tutti assieme per il bene del paese per il bene di Terasini e per il bene di tutti La squadra è tutta qui a vostra completa disposizione per lavorare per voi, siamo al vostro servizio I numeri sono stretti ma le aperture sono state ampie, i discorsi li abbiamo fatti nell'interesse della nostra cittadina e quindi alla fine non penso che sarà sempre una questione di numeri, penso che sul bene comune sul dare risposte ai cittadini saremo tutti d'accordo Ho chiesto di non avere steccati, di non avere barriere, di non avere discorsi di maggioranza e opposizione ma ho chiesto a tutti di impegnarsi a dare le risposte che i cittadini aspettano dalla maggioranza e dall'opposizione